buona giornata buondi buondi buona giornata a tutti da Radio Rosso Nero è obbligo di riscatto è venerdì è venerdì dieci oggi giusto Henry? Sì dieci giugno. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Per come siamo svegli direi che è un buonissimo Natale. No, scherzi a parte. Eh buona giornata a tutti. Buon inizio anzi buona fine della settimana per eh per quanto ci riguarda l'ultimo appuntamento di obbligo no perché domani comunque ci saranno altri dieci minutini di aggiornamento di mercato anche il sabato per quanto eh riguarda questa settimana e poi per il resto dei mesi a venire dei mesi dei mesi dei mesi Henry. Iniziamo a parlare di quello che è Natale non a caso ma perché oggi bisogna fare tanti auguri a Raffa e Leão quindi. Oh mi hai spoilerato un banner che non ti avevo mostrato. Ah l'avevi preparato l'avevi preparato. Sì 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 sì. Vabbè cosa hai regalato a Raffa? Eh non non lo dico nel senso non è che lo decanto qui davanti a tutti cioè non è che anche perché insomma nelle relazioni più importanti i regali rimangono comunque segreti. Va bene. Nelle relazioni più importanti lo abbiamo 23 anni. 23 anni il signor Raffa e Leão quindi. Che dovrebbe insomma magari avere il regalo una penna una pennina. Eh sarebbe sarebbe dopo sarebbe dopo assolutamente. Allora iniziamo con l'obbligo di riscatto vero e proprio spizzi ancora con noi perché perché alle Florenzi sarà ancora un terzino del Milan sarà ancora un esterno basso di destra del Milan mezzale esterno alto insomma tutto quello che ha fatto quest'anno lo farà ancora con noi ma da giocatore del Milan vero e proprio non non più in prestito il riscatto della Roma praticamente ormai è cosa fatta tra l'altro per una cifra inferiore ai tre milioni quindi eh oggi Corriere della Sera era ancora più preciso due sette due otto quindi una cifra molto contenuta. Sì molto contenuta per un giocatore che quest'anno ha avuto i due i due menischi quindi due problemi fisici abbastanza importanti però per me è assolutamente un coprotagonista di questo di questo scudetto comunque un una un gregario di primissimo livello ecco soprattutto dal punto di vista mentale di spogliatoio tante interviste di tanti giocatori del Milan dicevano Florenzi uno che parla tanto, Florenzi uno che prima delle partite si espone parla nello spogliatoio e in questo Milan di giovani un ragazzo così serviva oltre che dal punto di vista delle prestazioni perché ha fatto un buon periodo in cui giocava spesso, giocava bene, ha segnato dei gol pesanti, quello a Empoli, quello a Verona quindi per me bisogna solo che essere contenti dell'arrivo, della conferma diciamo di Florenzi e soprattutto queste cifre che non mi sembrano cifre spropositate. Assolutamente, assolutamente è una cifra molto contenuta sia per il riscatto, il l'ingaggio in pratica avrà confermato quello che era l'anno scorso intorno ai tre milioni di euro e quindi capite bene che alla fine è convenuto a tutti anche perché con Roma e a Roma aveva un po' rotto con l'ambiente, lì sicuramente non sarebbe potuto tornare, magari sarebbe potuto andare in una squadra terza però lui qua si trova bene, il Milan si trova bene con lui e quindi si è deciso di andare fino in fondo e riscattare alle Florenzi quanto è stato importante anche in spogliatoio, lo capiremo magari anche nei prossimi tempi ma diciamo che si è già ben intuito quello che può fare anche per far crescere tutto quello che è il gruppo del del Milan. Sì, conta che è già qui da un anno, cioè qui da solo un anno però io, per me lo possiamo tranquillamente mettere nel gruppo dei tra virgolette senatori, cioè in quel gruppo di giocatori un po' più esperti che sono stati in spogliato importanti, che hanno magari vinto qualcosa, che hanno giocato partite pesanti e che quindi anche e soprattutto il Champions League, anche per vincere un campionato come abbiamo visto, diventano poi fondamentali. Torniamo su una vecchia questione che ha qualche aggiornamento, cioè questa, le firme dei dirigenti la prossima settimana, perché sì, si può confermare che i dirigenti dovrebbero firmare settimana prossima e quindi chiudiamo anche questa piccola querela che in realtà non aveva grandissimi problemi, ma andava chiusa e si chiuderà già nella prossima settimana, tra l'altro dovremmo, forse spariamo per un secondo, aspetta, sì, lo riporta anche, addirittura, lo riporta anche un po' il Corriere della Sera di quest'oggi, è partito ufficialmente, diciamo così, il dialogo per il rinnovo di Maldini e Massara, ma non ci sono dubbi, per la prossima settimana dovrebbe cambiare tutto quanto, ma a questo punto sfrutto i giornali per passare ai prossimi argomenti. I rinnovi di contratto, le ho avanti con calma, solo diavolo per Tomori, Calulus vinci i resti, ovvero si tornerà a dialogare con tutti per un rinnovo con adeguamento di contratto, ma in realtà, Henry, l'abbiamo fatto vedere anche poco tempo fa, spazio salariale in questo club ce n'è, perché se ne sta liberando tanto al 30 giugno, quindi anche con gli adeguamenti non dovremmo andare a toccare troppo il nostro monte in gaggi. No, anzi, anzi, qualcosina dovrebbe comunque restare, tra virgolette, aperta, no, per possibili nuovi arrivi, perché tra il contratto di Ivra, soprattutto il contratto di Romagnoli, il contratto di Bacayocco, ti mostro intanto. Insomma, sono, eccoli qua, spero ci sentiate sotto, Romagnoli, Ibraimovic, Bacayocco, Chessi, Castiglieco e forse, forse, non lo sappiamo ovviamente ad oggi, però anche Anterebici al fronte di un'offerta potrebbe partire, sono praticamente tutti i primi della lista, è vero che poi a questa lista dovresti aggiungere i vari rinnovi di Tomori, di l'arrivo di Renato, il rinnovo di Leao, l'arrivo di Origi, l'arrivo di Origi, però sicuramente, diciamo, con quel nove rotti di Romagnoli, ma anche il contratto di Ibra, liberi tanto, ecco, quindi per me di spazio ce n'è ed è giusto che per riempirlo parti dal blindare i tuoi, quelli che ti hanno fatto vincere il campionato quest'anno. Prima di chiudere con Charles de Keteler, Henry, la solita questione... E' incredibile, ricordo troppo Charles de Keteler, dire Charles de Keteler, non so perché, cioè è un pochino vero. Un pochino vero. È vero. Chiudiamo con una delle nostre solite domande, ma i soldi, dove, caspita, arriveranno mai fuori? Non lo sapremo mai. Va bene, questa è la prima pagina di oggi di Gazzetta, anche Lukaku, quindi dopo Dybala, Lukaku, ottengono Lautaro, Bastoni e Danfries, quindi tengono tutti e si va avanti in allegria. Ultima questione di oggi, Henry. Bah, non commento, parliamo di Milan che è meglio. De Keter, dal gradimento al dialogo, perché il Milan lo ha seguito da due anni e in quest'estate inizierà seriamente a dialogare con il Brucce. perché l'intenzione è quella di sedersi intorno a un tavolo e capire se si riesce ad abbassare quella cifra inizialmente richiesta di 40 dai belgi per provare a portare realmente a Milano uno dei giocatori più importanti, anche potenzialmente, di questo, dei campionati europei. Henry, diciamo che se è ancora all'inizio, probabilmente è la trattativa che potrebbe andare un pochino più lunga anche per il tipo di investimento fatto, siamo solo all'inizio, in questo momento specifico si sta cercando di sistemare rinnovi, si sta cercando di sistemare i ragazzi di Lille e quindi questo è l'impegno principale. Poi questa sarà, diciamo, con ogni probabilità, il nome, la trattativa del mese di luglio. Sì, andiamo per steppi, io credo che entro giugno chiuderemo Rigi la prossima settimana con le firme dei dirigenti, poi subito si andrà a chiudere Renato Sanchez, cercheremo di capire cosa accadrà anche con Botlon perché anche lui diciamo è figlio della decisione della DNCG per il Lille e poi questo credo per quanto riguarda giugno, siamo già al 10, in 20 giorni credo che gli arrivi di Renato e Rigi più capire cosa accadrà con il difensore, tutto dopo le firme dei dirigenti possa essere un buon rollino di marcia, diciamo. Sì. A luglio magari si andrà si andrà a trattare ancora meglio, ancora di più Charles de Queteler, per me è un giocatore che nel mio ci starebbe benissimo in tre quarti, quest'anno ha fatto 18 gol, 10 assist, ha giocato tanto da prima punta, tanto da seconda punta, tre quartista, diciamo, e quindi è un grandissimo sì, sappiamo che alla dirigenza piace, sappiamo che è uno di quei giocatori su cui il Milan sta puntando, uno di quei giocatori duttili che possono ricoprire più ruoli perché all'occorrenza magari può giocarti anche un po' più avanti, all'occorrenza può giocare in uno dei due versanti offensivi, quindi ovviamente non è il suo focus primario, però può farlo, Idem magari Renato, Idem Morigi, stiamo andando tanto alla ricerca di quei giocatori lì, lo stesso Florenzi, un giocatore che ha fatto della duttilità la maggior caratteristica della sua, la miglior caratteristica della sua carriera e quindi direi molto bene così, io personalmente del duo del Bruges andrei 100% su di lui, se devo dirti tra lui e Zaniolo andrei sicuramente su di lui, è un investimento, sarebbe un investimento molto importante perché si parla comunque di cifre non irrisorie, anzi, però è un Milan che se vuole fare uno step anche a livello di investimenti, forse lui non è giusto. Harry, noi ci diamo appuntamento tra pochi minuti, 10 e mezza, chiama Milan sull'altra piattaforma, dopodiché ore 3 di tutte l'Anche e ore 16 c'è pelle rossonera perché oggi è venerdì. Simo, commentate tutti con Morfeo, non il giocatore ma il dio del sonno che tutti conoscete dato che ci scrivete sempre siete addormentati, sì, perché sono le 8 e mezza 9 di mattina quindi siamo addormentati. Commentate tutti così per dire, per farci capire che avete visto il video finì in fondo e non solo la notizia su Florenzi. Ciao a tutti.